La cerimonia del 25 aprile Il monumento è caduti, un monumento che l'amministrazione ha in pieritura memoria dei nostri uomini, dei nostri giovani che hanno dato la vita per l'Italia, ha voluto ristrutturare e completare con due cippi e due targhe nel 2018 ricorrendo il centenario della fine della Grande Guerra. Questo monumento è posto un po' in una posizione defilata, però vicino al cimitero, sulla strada per Magenta, ci deve permettere tutte le volte che passiamo di qui, non solo volgere un pensiero ai nostri cari, vogliono un pensiero di ringraziamento a questi nostri concittadini, a questi uomini, a questi giovani che hanno dato la vita per l'Italia, che hanno dato la vita per noi. Ecco, ricordiamo lì. La cerimonia del 25 aprile 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 A presto. A presto.